benvenuti in questo video oggi parliamo dell'importanza del marketing con i tempi che corrono ormai la maggior parte delle aziende ha preso consapevolezza dell'importanza di vendere su amazon devo dire che inizialmente la mia avventura con impatto non è iniziata benissimo ogni mattina mi alzavo mi preparavo di tutto punto mi vestivo così elegante cosa che non è da me preparavo il mio portadocumenti che mio marito mi aveva regalato come portafortuna e mi recavo personalmente dai negozianti dagli imprenditori per proporgli il mio servizio ma non appena pronunciavo la formula magica la fattidica parola magica a vendere su amazon venimo generalmente cacciata a calci nel sedire per fortuna le cose da quel periodo ad oggi sono decisamente cambiate non mi rieco più io personalmente presso i negozi la pandemia sicuramente mi ha aiutato ma non solo molte di quelle aziende hanno dovuto hissare bandiera bianca molte altre però hanno preso consapevolezza come dicevamo prima e hanno finalmente capito l'importanza di vendere su amazon il problema oggi non è più se l'azienda vuole o meno vendere su amazon quasi tutte le aziende hanno capito che vendere su amazon è importante l'ho detto 300 volte la vera domanda oggi è quanto le aziende sono disposte a investire per vendere su amazon per posizionarsi su amazon quanto sono disposte a investire nel marketing per far conoscere il proprio brand e per posizionare il loro brand su amazon ve lo dico io nulla spesso le aziende vengono da me piangendo e mi dicono sonia io non riesco a posizionare il mio prodotto su amazon quando vi chiedo quanto hanno investito in marketing perché volevo dirvelo anche su auto si fa marketing quando vi chiedo quanto hanno investito in marketing quanto hanno investito nelle sponsorizzate la risposta è zero ad oggi non faccio miracoli quindi per quanto la mia strategia può essere la migliore del mondo non è sufficiente per poter posizionare il tuo prodotto su amazon quello che è importante è investire in marketing investire nel proprio brand parliamo quindi di marketing ti tratta di regole generali che valgono per tutti ma in questo caso parliamo nello specifico di amazon per quanto riguarda il proprio brand per posizionare al meglio il proprio brand servono cinque elementi fondamentali primo elemento focus secondo elemento categoria terzo elemento martello verbale quarto elemento martello visivo quinto elemento l'urlo di battaglia proprio pari pari come lo dice olvias non si tratta di principi inventati da me ma principi letti nei libri studiati in corsi che trattavano argomenti di marketing uno dei re del marketing è proprio orvias quindi tutto quello che oggi vi andrò a dire sono tutti i principi che ho appreso leggendo uno dei suoi libri e partecipando a uno dei suoi corsi torniamo a noi abbiamo detto che uno degli elementi il primo elemento è proprio il focus oggi parleremo nello specifico del focus l'azienda il brand deve essere quanto più possibile focalizzato cosa intendo per focalizzarsi che sono bandite le estensioni di vigna facciamo qualche esempio l'altro giorno ero su instagram e due ragazzi influencer stavano pubblicizzando e sponsorizzando dei prodotti di un'azienda si trattava di abbigliamento sportivo sono pertanto atterrata sulla pagina sul sito di questa azienda e devo dire che la confusione regnava sovrana questa azienda non vendeva soltanto abbigliamento sportivo vendeva anche prodotti cosmetici anticellulite tu potresti dirmi vabbè chi va in palestra vuole anche debellare la cellulite quindi ci potrebbe essere una certa attinenza ma non si può dire che questa azienda sia focalizzata se vuoi vendere più prodotti più che fare un'estensione di linea sarebbe opportuno creare due brand differenti il vero problema è proprio il focus l'estensione di linea intralcia il processo di branding quando un'azienda vende un'ampia gamma di prodotti più prodotti sotto un unico nome è estremamente difficile che questo nome possa diventare un brand potente quindi la regola numero uno del marketing è proprio il focus più focalizzato sarà il tuo brand maggiore sarà il margine di profitto cosa sentiamo spesso dire all'interno di un'azienda dobbiamo aumentare il affari questa è la frase standard sarà vero che la soluzione a tutti i nostri problemi è la crescita se l'obiettivo è un aumento del fatturato anno del 15 per cento significa che nell'arco di 50 anni questo fatturato sarà 1083 volte maggiore rispetto a quello iniziale sappiamo bene che questo non è fattibile come dicevo può essere fattibile per un'azienda nuova ma non per un'azienda storica e matura pertanto quale dovrebbe essere l'obiettivo vi lascio con quest'ultima considerazione e vi invito a riflettere l'obiettivo dovrebbe essere mantenere il fatturato medio anno ma allo stesso tempo ridurre le spese e aumentare i profitti per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video vi aspetto